13 maggio 1909, 13 maggio 2017. La prima è una data storica per la competizione a tappe più importante d'Italia, seconda al mondo soltanto al Tour de France. L'altra è una data destinata ad entrare di diritto nella storia pugliese delle due ruote. Succederà proprio domani in occasione della Molfetta Peschici, ottava tappa del Giro d'Italia del Centenario e lunga 189 chilometri con due Gran Premi della Montagna di irrilevante difficoltà in programma. Il 13 maggio di 108 anni fa cominciava la lunga storia della Corsa Rosa con la Milano-Bologna vinta da Dario Beni che inaugurò la prima edizione del Giro. Il 13 maggio di 108 anni dopo invece toccherà alle strade della Puglia accogliere i protagonisti di un evento ormai conosciuto in ogni angolo del pianeta che può vantare addirittura 171 nazioni collegate in mondo visione. È un feeling ormai consolidato intanto quello tra la nostra regione e il Giro d'Italia che oggi farà tappa ad Alberobello. Nel 2014 arrivò a Bari l'anno precedente, a cui si riferiscono queste immagini, a Margherita di Savoia. Domani invece i corridori partiranno da Molfetta e raggiungeranno Peschici dopo una lunga fatica di 189 chilometri. Lo start è fissato alle ore 12.25. La carovana attraverserà le città di Biceglie, Trani, Barletta, Margherita di Savoia, Zapponeta, Manfredonia prima della salita di Monte Sant'Angelo dove è collocato un Gran Premio della Montagna di seconda categoria. Successivamente è previsto il transito a mattinata e vieste intervallato dalla salita di quarta categoria a Coppa Santa Tecla. E infine l'arrivo sul Gargano a Peschici. Tantissimi ancora una volta gli appassionati che si riverseranno per le strade coloreranno di rosa le città coinvolte nell'ottava tappa. La Puglia, inutile nasconderlo, è pronta a dipingere un'altra cartorina che resterà nella storia del Giro d'Italia.